Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa centonovantesima puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi come sempre le principali notizie del mondo del software libero open source della settimana appena trascorsa. Come potete vedere se già mi seguite su YouTube, anche questa è una puntata video del podcast di Marcos Box quindi, oltre ad ascoltare la mia solente voce, potete vedere il mio bel faccino anche se oggi ho una barba indecente e potete anche guardare gli screenshot delle varie notizie che vado di volta in volta a commentare è un modo come un altro per seguire il podcast, è un modo che piace a molti di voi e sto continuando a portare avanti da diverso tempo. Vi invito, qualora non l'avessi ancora fatto, a iscrivervi numerosi al canale YouTube di Marcos Box perché non pubblico soltanto le puntate del podcast ma pubblico anche recensioni sia di distribuzioni che di software, che è anche di prodotti hardware quando mi capita ed è un modo per aiutare a aumentare visibilità al canale e per aiutarmi a diffondere il verbo del gianninismo oltre che quello del software libero, penso, se mi andavi del gianninismo questo la capiranno soltanto quelli che mi seguivano su Google Plus tantissimo tempo fa. c'è stato una volta, sappiate che io come potenza di fuoco, tra virgolette, su Google Plus avevo più potenza, più ascolto di, pensate un po' di Beppe Grillo all'epoca erano... succedono cose turchi su quella piattaforma. vabbè, e lì ho conosciuto anche moltissimi di voi che mi seguono tuttora su Telegram e oppure che continuo a pararvi, a pararci, anzi, su Telegram e su altri social quindi è stata una bella esperienza purtroppo Google, come sapete, come sempre, deve distruggere tutte le cose buone che fa ma vabbè apriamo questa puntata parlando proprio di Telegram stavamo parlando di Telegram parlando di una notizia che ha fatto il giro del mondo la scorsa settimana e hanno parlato anche i TG, pensate un po' ho sentito persone anziane che gli chiesto qua che hanno arrestato ma questo è un personaggio famoso e perché la scorsa settimana c'è stato l'arresto ora lo sapete tutti quanti a meno che non vi viete sottrazzarsi c'è stato l'arresto di Pavel Durovic, il fondatore di Telegram Pavel Durovic è stato arrestato in Francia stava facendo uno scalo con il suo aereo lui normalmente non passava sul territorio europeo ma soprattutto non passava sul territorio francese perché su di lui pendevano alcune accuse da parte della magistratura ha fatto scalo molto probabilmente da quel che si è capito lo scalo è stato fatto perché aveva poco autonomia con l'aereo semplicemente e come è atterrato in Francia dall'aeroporto di Le Bourgette spero di averlo pronunciato bene spero che l'aereo francesi mi aiuti in questo caso è stato arrestato dalla gendarmeria francese Pavel Durov era registrato nello schedario delle persone ricercate in Francia su di lui pesano delle accuse pesantissime praticamente viene accusato di complice di traffico di droga reati di pedofilia e chi più ne ha più ne mette perché questo? perché semplicemente telegram telegram è un'applicazione che tutti quanti noi utilizziamo soprattutto noi sostenitori del software libero perché apprezziamo la possibilità di avere delle conversazioni crittografate in modo tale che nessuno possa spiarci nessuno possa mettere naso in quello che facciamo in quello che diciamo in quello che ci scambiamo con amici, conoscente e quant'altro oltre a questo è anche molto conosciuta perché perché purtroppo queste caratteristiche di privacy vengono utilizzate anche da malintenzionati per fare cose praticamente illecite nel 99% degli stati attualmente presenti sulla faccia della terra la gendarmeria francese il governo francese lo accusa di tutta questa serie di rati di essere complice perché? perché Pavel Durov si è sempre rifiutato di collaborare con attivamente con qualsiasi istituzione non soltanto il governo francese ma anche altri governi come quello statunitense come quello russo e quant'altro si è sempre rifiutato di di rilasciare i dati facilmente per quanto riguarda i i messaggi scambiati sulla piattaforma i dati per cercare di identificare utenti che compiono determinati reati sulla piattaforma perché Pavel Durov crede nella nella sua piattaforma e chiede nell'anonimato e quant'altro quindi oltretutto poi ci sono anche dei motivi proprio pratici perché quando uno utilizza le chat criptografate quindi non quelle pubbliche che noi utilizziamo normalmente per scambiarci messaggi lì in quel caso proprio non c'è fisicamente la possibilità per telegrammi risalire le conversazioni non ci sono backdoors che mettono altri software di messaggistica e quindi di conseguenza di conseguenza come diceva proprio per via di questa struttura del software telegrammi si presta a questi usi reciti e vabbè di fatto Pavel Durov non ti può spiare quando utilizzi cioè Pavel Durov nel senso telegrammi non ti può spiare quando utilizzi determinati tipi di chat e crittografate proprio per la natura stessa della chat e crittografate quindi in un certo senso c'ha ragione Pavel Durov per dire io non ti posso fornire i dati proprio perché non ce li ho che poi diciamoci basta vedere un po' che cosa è successo negli ultimi anni sia in Italia che in Francia perché in Francia è anche presente questo problema con il problema dei gruppi telegrammi che si scambiavano materiale protetto dal copyright per quanto riguarda le partite di calcio o i sport in generale sia in Italia che in Francia la magistratura è riuscita a intervenire riuscita a identificare gli autori dei canali è riuscita a bloccare quindi diciamo così quando la magistratura è spinta da motivazioni economiche e pressioni economiche da parte di dei vari gruppi che fanno questi che vendono diritti tv per per quanto riguarda partite e quant'altro tanto la magistratura riesce subito a identificare le persone su Telegram non ci sono problemi di magazza di cooperazione da parte di di Telegram però questo stranamente quando succede per determinati altri tipi di reato sembra che hanno tutti i problemi di questo mondo per poter identificare e quindi vogliono per forza che venga data da parte di Telegram libero accesso a tutti i dati libera collaborazione e quant'altro è un problema annoso dopo l'arresto di Pavel Durov il mondo si è diviso in sostenitori di Pavel Durov e persone che invece danno conto a Pavel Durov perché dicono bisogna regolare una cosa del genere non può essere fatta bisogna mettere a roco e quant'altro quindi il mondo si è spaccato Pavel Durov è un personaggio divisivo Telegram è diventato un software divisivo molte persone si hanno iniziato a dire io che utilizzo un programma per fare queste cose iniziano a farsi anche delle strane associazioni mentali quando il rete è un programma che è totalmente recito perché diciamo questi tipi di reati non sono nati con Telegram sono nati ben prima ma ci sono tantissimi modi che vengono utilizzati da chi compie quei determinati reati per cui è stato accusato il CEO di Telegram di non essere collaborativo nella risoluzione di questi tipi di reati quei tipi di reati esistono da quando esistono l'internet anzi esistono da prima dell'internet e sull'internet continuano a esistere perché ci sono tantissimi modi per fare determinate cose quindi chiudiamo l'internet fatemi sapere voi che cosa che cosa ne pensate nei commenti fatto sta che comunque Pavel Durov come riportato poi successivamente dalle agenzie di stampa è stato rilasciato su calzone gli hanno messo una calzone di 5 milioni di euro doveva presentarsi due volte a settimana alla polizia e adesso gli vogliono appioppare anche altri tipi di reato perché a quanto pare c'è una denuncia da parte della ex moglie di di Durov presentata nel 2000 anzi no presentata recentemente mi sembra di maltrattamento nei confronti dei figli all'anno del 2017 vedremo un po' come si evolverà la situazione perché come vi dicevo a quanto pare vogliono unificare anche questa accusa con quella con quella principale boh vedremo voi che cosa ne pensate su tutta questa vicenda lasciate un commento sulle pagine di Marcosbox e cambiamo argomento torniamo a parlare di Cosmic Cosmic è l'ambiente desktop scritto in Rust realizzato da System76 per PopOS e sta avendo un successo stagare sta avendo così tanto successo che praticamente adesso possiamo installarci Cosmic desktop su praticamente tutte quante le distribuzioni adesso la possibilità di installare Cosmic desktop arriva anche in Arcstar il programma di installazione di Arc Linux quello da riga di comando con la versione 2.8.3 c'è stata aggiunta un'opzione per adesso attivabile soltanto delle impostazioni avanzate per installare Cosmic desktop mi piace a me piace Cosmic desktop mi piace che sta riscuotendo un successo enorme all'interno della comunità del software libero open source la comunità Linux non vedo l'ora di vedere gli sviluppi futuri adesso è una versione alfa di Cosmic desktop però già promette benissimo secondo me fra qualche anno diverrà il punto di riferimento tra i desktop environment fidatevi cambiamo adesso argomento e passiamo a parlare di software che sono stati aggiornati perché c'è stato il rilascio di Caligra Office 4.0 Caligra ve lo ricordate praticamente è il successore di K-Office è una suite d'ufficio però non è soltanto suite d'ufficio perché contiene anche programmi di grafica vittoriale diceva una suite d'ufficio pensata per KDE per Instagram anche su altri desktop environment basata su GQT che in passato devo essere sincero ho anche utilizzata utilizzata per diverso tempo perché mi piaceva mi piaceva come gestiva l'interfaccia grafica perché come potete vedere gli screenshot qui c'è un pannello laterale ben si presta agli schermi wide a me viene da ridere questa cosa aveva anche una migliore compatibilità rispetto ai formati proprietari Microsoft rispetto rispetto a Libre Office mi ripeto a me viene da ridere questa cosa perché KOffice girava meglio per determinati formati vabbè poi è caduto un po' nel dimenticatoio Calligra però a quanto pare come potete vedere il progetto Calligra è ancora vive Vergito lotta assieme a noi c'è stato il porting al Qtc e kdf framework si quindi se siete amanti delle Qt installatelo fateci un pensierino provatelo e fatemi sapere come vi trovate e cambiamo nuovamente argomento e passiamo alle notizie riguardanti Ubuntu la scorsa settimana ci eravamo rilasciati ci eravamo lasciati con una notizia riguardante lo eslittamento del rilascio della versione 24.04.1 quindi la prima point release di Ubuntu 24.04 LTS Nobile Numbat e Canonica hanno mantenuto la promessa e nella giornata del 29 agosto ha rilasciato questa prima point release di Ubuntu ovviamente sono state rilasciate anche tutte quante le ISO aggiornate dei firewalls ufficiali quindi Ubuntu Bagi Ubuntu Mate Ubuntu 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 Studio Xubuntu Ubuntu Ubuntu Cinnamon Ubuntu Unity se avete già installato Ubuntu non dovete fare niente l'aggiornamento vi è già arrivato con gli aggiornamenti di sistema con questa prima point release non ci sono aggiornamenti dello stack hardware quindi del kernel dei driver e quant'altro quelli arriveranno con la punto 02 quindi la seconda point release l'unica diciamo così l'unica nota che fa segnalare è che con il rilascio della prima point release l'aggiornamento a Ubuntu 24 punto 04 viene proposto agli utenti provenienti dalla precedente point release quindi adesso gli utenti che hanno installato Ubuntu 22 04 LTS riceveranno a partire da ieri la notifica dell'aggiornamento quindi sono invitati a passare la nuova LTS di Ubuntu avete fatto la migrazione? avete fatto l'aggiornamento? fatemelo sapere nei commenti e come ultima notizia di questa piccola puntata agostana dei podcast di Microsoft parliamo del nuovo mini pc della Geekom la X7 Pro che adesso è equipaggiato anche con processore M di Ryzen 9 vi parlo di Geekom sulle pagine di Marcosbox perché ve lo dico per trasparenza e onestà ho fatto domanda per poter avere per poter avere accesso alla diciamo così al programma di affigliazione di Geekom mi hanno accettato per poter magari riuscire in futuro a testare qualcuno di questi mini pc perché sono curioso di vedere come girano questi mini pc a livello di ottimizzazione con le distribuzioni di Linux quindi mi sono proposto a Geekom Geekom mi ha accettato e troverete nei prossimi notizie riguardanti questi mini pc della Geekom è interessante questo mini pc il costo è un costo un po' sostenuto perché sono 949 euro anche se c'è come potete vedere un codice sconto che potete utilizzare fino al 30 settembre per avere 60 euro di sconto sono mini pc che hanno prestazioni elevate hanno anche alcune ottimizzazioni per quanto riguarda per quanto riguarda la gestione del del raffreddamento sono belle io vorrei poterci mettere le mani su uno di questi di questi prodotti vi fate una bella scrivania consultando i mini pc i monitor tastiera mouse wireless magari meccaniche soprattutto meccaniche la tastiera e vi fate una bella prestazione bella prestante occupando poco spazio per me possono essere delle valide soluzioni anche per noi utenti linux poi in passato mi ricordo c'è stato anche una diciamo così diversi produttori sono dati a vendere mini pc con linux con quest'hardware che è quest'hardware moderno vedere mini pc di questa di questa potenza infatti girare con linux per me potrebbe essere vi ripeto una buonissima soluzione per noi pinguini e una buonissima soluzione anche per chi ci deve lavorare poi vabbè se ci leggete hanno anche delle schede tecniche davvero interessanti perché si possono personalizzare con fino a 64 giga di ram quindi sono delle macchine davvero belle voi fatemi sapere che cosa ne pensate di questi mini pc che cosa ne pensate di geekom se avete già acquistato qualche prodotto da loro lasciatemi un commento sia in caccia sulle pagine su youtube che nelle pagine di marcosbox sotto l'articolo ecco questa un'ultima notizia si conclude qui questa cento novantesima puntata del podcast di marcosbox io ovviamente vi ricordo di seguirmi su tutte quante le piattaforme social facebook x youtube tutti i principali piattaforme podcasting mi trovate su linkedin mi trovate su mastodont mi trovate su telegram con un canale telegram dedicato alle notizie la community telegram dove potete parlare di tutto non soltanto le software open source e un canale telegram dedicato alle offerte di marcosbox con link affiliazioni di amazon voi acquistate da uno dei link affiliati di amazon a voi non cambia niente il prezzo a me viene restituita una piccola percentuale da parte di di amazon se volete potete utilizzare anche il codice marcosbox s-21 se siete più pratici e mettete voi il referral in alternativa potete cliccare sul pinguino dove sta scritto support me by buying on amazon ho detto una conuncia bruttissima e vi ricordo di notte che potete supportare il blog anche acquistando rinnovando la vostra VPN su nord vpn sulle pagine di marcosbox trovate il link ve lo metto anche qui sotto c'è il link affiliazione a marcosbox che via fa una serie di sconti se acquistate e rinnovate con questa VPN se rinnovate un nord vpn da link affiliazione anche in questo caso nord vpn mi dà una piccola percentuale sul 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 a voi non cambia anche in questo caso assolutamente niente le offerte cambiano a seconda del momento per esempio vediamo adesso qual'è l'ultima diciamo l'ultima offerta se fate l'affiliazione se acquistate dal link affiliato potete ottenere il 71% di sconto sul nord vpn più un buono di 6 mesi da regare a chi volete quindi è interessante questa prova per fornire nord vpn anche a vostri amici e conoscenti ecco questo ho detto tutto lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di marcosbox mi raccomando seguite il blog seguite marcosbox su youtube seguitemi sui social fatemi crescere fatemi arrivare là dove nessun pinguino era mai giunto prima ciao ciao